I Bagnoli sono molto contento anche qua dell'incontro del Ministro Lezzi, non posso dire delle cose perché abbiamo convenuto di dirle al momento giusto, ma mi posso assicurare che stiamo nelle condizioni ideali per la svolta su Bagnoli. Il grande lavoro lo stanno facendo Comune, di Napoli e Governo nazionale.